Buongiorno a tutti. Allora, a distanza di breve tempo dall'ultimo interattivo faccio un nuovo interattivo per sapere che cosa sta avvenendo verso di noi, verso chiunque guarderà una delle tre versioni classiche che metto. Allora, in realtà io non ho, come sapete, dei tempi, cioè io lo faccio quando mi chiamano, quindi sento che vogliono parlare e io rispondo facendole parlare. Poi a voi, se ci trovate o non ci trovate qualcosa che vi risuona, magari scrivetemelo nei commenti, fate... Niente, comunque, il mazzo che usiamo oggi è il Sacred Feminine, che ho già usato in passato diverse volte, in abbinamento alle rune delle streghe, come consiglio divinatorio. Useremo solo gli arcani maggiori di questo mazzo, che è un mazzo molto 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 bello, e vedremo su tre livelli che cosa sta arrivando verso di voi. Quindi, niente, mettetevi comodi, la prima variante è finita quassù, non so perché. Io vi do qualche secondo, intanto mescolo il mazzo, le varianti, lo sapete, sono tre. Torneremo anche alle fatine, però per ora riprendiamo i nostri segnaposto e io intanto mescolo le carte. Che cosa arriva nella vita di chi ha scelto la variante 1? Che cosa sta arrivando? Che energie, che situazioni stanno arrivando nella vita di chi ha scelto la variante 1? Che cosa stanno arrivando nelle situazioni, nella vita di chi ha scelto la variante 1? Ok. Allora, si parte con la prima variante, la variante rossa, e si vede subito che cosa sta per arrivare nella vostra vita. Facciamo un po' di spazio, magari. Qui ci sono emozioni forti. Allora, la prima carta, il primo mazzetto di tre carte, fotografa un po' la situazione sul piano teorico ed emozionale, nonché si direbbe oggi usando un neologismo new age e energetico. Diciamo subito che la situazione di partenza per chi ha scelto la variante 1 non è certo la migliore, perché c'è una luna di base, quindi comunque sì, c'è un cammino, c'è un'attesa, c'è anche comunque un sentirsi un attimino vittime degli eventi. Quindi c'è tanta, forse anche tanto rancore, tanta rabbia, tanta anche disperazione. Qui probabilmente si tratta di una situazione che sia essa rapportabile, poi vedremo nello specifico, a livello affettivo, lavorativo, di amici, di famiglia. In una situazione che sta ristagnando, una situazione che non fa bene, che vi dà preoccupazione, che vi costringe un attimo a fare un lavoro di introspezione e comunque cercare anche di calmare i vostri bollenti spiriti. Potrebbe anche far riferimento al fatto che comunque questa situazione, visto che mi esce nelle carte, è addirittura di svoltamento, perché abbiamo comunque la luna che quindi rappresenta una fase. O anche al fatto che comunque è una fase della vita che vi sta dando un attimino questa situazione molto dolorosa. Ecco, qui si parla proprio di una situazione dolorosa, anche perché la carta dell'azione che è palese è la torre. Diciamo che in questa carta, a parte che torna la luna nelle carte, questo mazzo mi piace tanto perché è molto intuitivo a livello di comunicazione. Però anche qui c'è un discorso di iconografia un attimino più soft di quella tradizionale, ma certamente non meno preoccupante, perché comunque sembra che questa figura vada ad oscurare la luna, e questa figura è probabilmente, ovviamente, al di là della idea a cui è associata, però sembra che questa figura vada ad oscurare la luce della luna, che comunque è una luce riflessa, quindi questa situazione probabilmente io suppongo, dato che mi esce le volte la luna che riguarda anche l'intervento di altre persone. Quindi posso sempre più restringerla, ha un campo, cioè non è una depressione presa da, depressione è una parola grossa, comunque usiamola con tutti i limiti del caso, presa da situazioni fuori dal vostro controllo. Qui c'è il concorso di altre persone, che stanno fra voi e la luna. E qua giù c'è proprio un labirinto nel quale siete persi, di fronte all'imponenza di questa situazione, che non sapete come controllare. Qua giù c'è una figura, che si vede molto, molto sfocata, perché comunque il cellulare è quello che è, e ricorda molto sta figura inginocchiata, comunque sia, alla fine c'è sempre una parte di voi, una parte di voi, o comunque in questa situazione a due o più persone, c'è sempre una persona che deve piegarsi al volere degli altri, e questo sta causando un blocco. È lo stesso blocco che vediamo qua, perdersi nel labirinto, quindi voi siate fermi in questo momento. Il fatto che le carte mi facciano uscire, che comunque mi esca questa situazione, comunque, secondo me, ha già di per sé del positivo, e vedremo dopo perché. Perché mi esce, come dicevo prima, la luna qua, quindi è possibile che spargli di un ciclo che sta finendo. Perché l'appeso anche dei lati positivi, tradizionalmente lo si associa, poi che i tarocchi tradizionali siano quelli o meno, questo è un altro discorso, però oggi lo si associa all'intuitività, prendendo a modello il mito di Odino e dei nuovi giorni dell'albero. E si dice che comunque sia, chi fa questo tipo di discese, torre e luna, che sono veramente, veramente, veramente forti, sta anche seminando, sta ristrutturando, sta ripittando le pareti del proprio inconscio, di un colore nuovo, in modo che possa sorgere un domani. Intanto state, ecco, state gettando il seme, state cambiando, anche se l'attesa è lunga. Potrei spingermi a dire che qui riguarda una situazione di legame affettivo, sia esso di amicizia o di amore, ma penso più, o anche genitoriale, parentale, ecco. Però penso più che l'intervento di un terzo abbia, perché comunque le fasi sono tre, come vedete ci sono due figure e una giù, qui ci sono la luna, una figura imponente, e l'altra che vuole... Cioè, il discorso triade su queste due carte torna parecchio. E questa, che è la carta un po' del movimento, però, è quello occulto, ci fa capire che voi dentro state, vi state, sì, dando da fare per resistere a questa ondata di dolore, però allo stesso tempo siete fermi nella vita, ecco, in questa situazione intendo. Allora, fisicamente, invece, il movimento, che cosa arriva verso di voi? Paradossalmente, allora, sono sempre più convinto di vederci una situazione a tre, però a questo punto non so, ed è possibile che la situazione a tre perché siate in realtà voi ad averla, ad averla... Ora mi spiego meglio, prima cerco di dirlo. Fondamentalmente, allora, quassù io vedevo una situazione a tre, ok? Ripeto, poi, che sia di amore, che sia di amicizia, sia magari la classia nora che si mette contro la socela, o viceversa, siete un po', voi siete fra l'incudine e il martello, quindi può essere anche una persona, uomo o donna che sia, che sta coltivando due partner, una persona che sta coltivando due lavori, una persona che, fra cui nora e socelo si litigano, insomma, voi siete fra l'incudine e il martello, e avete questa figura che vi impedisce, o queste figure che vi impediscono di prendere una decisione chiara sul vostro destino. Allora, che cosa sta avvenendo verso di voi? Paradossalmente, per quanto la parola sia brutta, nel vostro caso è bella, sta avvenendo la glacialità. Perché voi camminate in solitudine, sicuri della vostra esperienza, probabilmente è l'esperienza che avete... Per usare un francesismo si potrebbe dire vi siete rotti lei, ma altamente, e sta avvenendo verso di voi che la freddezza di prendere una decisione. Parlo di decisione perché il bivio è dato dall'amante, e comunque anche qui torna la solita triade che vediamo qua su, e che siamo stati a pace di vedere qui. Però, il fatto è che qua mi esce la papessa, quindi comunque è una carta sì, fredda e glaciale. Quindi dice che questa decisione verrà presa con razionalità. Probabilmente nemmeno dicendo tutto ai diretti interessati, perché se si tratta per dire di un rapporto d'amore, o di un rapporto lavorativo all'altra, a una delle due parti, sicuramente avete nascosto o nasconderete alcuni dettagli, se non addirittura l'esistenza di una controparte. Quindi verso di voi sta arrivando la scelta e la freddezza necessaria per farla. È una situazione che comunque probabilmente vi sta facendo molto, molto, molto male, perché ve la portate dietro un po' come un peso, e voi avete bisogno di scegliere, avete bisogno di liberarvi, avete bisogno di questa leggerezza. Avete bisogno, è la papessa anche la carta del patto, avete bisogno più che di scendere a patti con dei terzi, avete bisogno di scendere a patti con voi stessi. Quindi probabilmente qua si tratta della capacità appunto di riprendervi un attimino in mano il vostro destino sotto questo aspetto. Sicuramente per gli altri aspetti vi saranno altre implicazioni. Veniamo invece alle carte che vi sono nella posizione avversa. Allora, diciamo che la colpa è anche un po' vostra per questa situazione, perché comunque voi avete la ruota di fortuna che è l'opposizione a un cambiamento, perché comunque voi qua forse avete un lavoro che vi rende e lo dovete lasciare per un altro e magari vi rende meno, o una persona alla quale sì volete bene, ma ormai gli volete bene un fratello, una sorella, o una famiglia che comunque siete rotta, però vi tollerate malissimo, però alla fine vi fa comodo starci perché magari si sa che mamma la vestira, e fa da mangiare. Quindi qua c'è una situazione sulla quale vi siete un attimino atagiati. Per carità, magari non avevate altre strade, non l'avete fatto certo con cattiveria, però diciamo che un attimino è anche colpa vostra questa situazione. Avete tollerato fin troppo magari una situazione che non vi dava ciò che veramente avreste voluto. c'è la forza come carta avversa anche. La vedo un po' anche come un discorso molto simile a quello della ruota, quindi un'opposizione a cambiamento, e ci vedo molto il discorso di convenienza. Convenienza fra virgolette, vi ripeto, perché comunque alla fine a volte non se ne può fare, non si possono fare altre scelte, però ecco qua ci vede un po' più un discorso di dire, ok, per questo vivere tendo a... che cosa... che cos'è che vi fa paura? Avete paura della reazione dell'altra parte. Avete paura che imponendovi, perché la forza può essere... avete paura anche di imporvi del resto, potrebbe proprio essere questa. Scateni, proprio qui si parla del matto, proprio la follia dell'altra parte. È una situazione sicuramente molto delicata la prima, però verso di voi sta venendo la capacità di scegliere per il vostro destino, e sta venendo anche la freddezza di farlo per voi stessi, senza cedere a quelli che potremmo anche chiamare ricatti emotivi, perché qui si tratta veramente di una sorta di ricatto emotivo, sia esso lavorativo o meno. Che cosa sta arrivando verso chi sta scelto la variante 1? Allora, vi esce il pentacolo, però vi esce rovesciato, quindi niente. ok, però anche quello rovesciato, la spirale vi esce rovesciata, cazzo tutte rovesciate, e questa invece vi esce dritta, la triplice spirale, sì, la triplice spirale vi esce dritta, ed è proprio quella che dicevo io, cioè, vi rappresenta il potere personale, e la capacità di gestire le relazioni con gli altri, può parlare anche di relazioni karmiche, o comunque di debiti karmici con una persona, io vi ho letto quella che è uscita dritta, le altre non le ho lette, perché comunque alla fine veste lune vanno lanciate così, ci sono anche altri modi, però per oggi ho scelto questo, e quindi comunque, qui va a parlare proprio di un ciclo karmico, che si chiude grazie alla lezione che avete imparato, la lezione che avete imparato è che a volte è necessario anche essere crudi e freddi, e riprendersi in mano quello che è un attimo il proprio destino, quindi la versione 1 può, secondo me, ritenersi soddisfatta, nonostante la scelta riconosco che sia pesante, perché questa è una situazione di blocco veramente forte. Passiamo alla versione 2, la versione gialla, allora che cosa deve aspettarsi, su chi ha scelto la versione 2, che cosa sta per entrare, che cosa arriva, che energie, che situazioni arrivano, su chi ha scelto la versione 2, l'eremita riesce sempre al solito posto, allora, qui come chiave dell'intera lettura, letteratura è un'altra cosa, abbiamo la morte, abbiamo il cambiamento totale, repentino e non in dolore, ma che alla lunga, da frutto, quindi abbiamo un cambiamento completo, ed è supportata dalla giustizia, in questo mazzo c'è la la versione, riprende molto l'insegnamento Wired, per cui, nei numeri, giustizia e forza, si 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 invertono, perché la giustizia in realtà sarebbe la 8, la forza sarebbe la 11, tradizionalmente, invece lui le aveva invertite, e qualche mazzo lo fa ancora, e invece come movimento occulto avete la luna, allora, qua si tratta di un cambiamento, che voi auspicate da tempo, riguarda la giustizia, e io non penso che riguardi la giustizia umana può anche fare riferimento a un discorso di giustizia umana ci mancherebbe però in realtà dato che qua poi si va verso la luna quindi si va verso un qualcosa che poi andremo a vedere a tutta una serie di significati occulti di significati nascosti eccetera io credo che qua si tratti di una giustizia di un fare una sorta di piazza pulita di situazioni che non vi servono più qua si va proprio un taglio netto col passato e la giustizia è questa la capacità e secondo me nemmeno vostra data dagli eventi che vi coinvolgono di dare un taglio col passato mi spiego meglio ci sono delle situazioni anche qui posso parlare di situazioni familiari lavorative affettive di amicizia in cui un po' come era per la variante 1 si stenta a dare un taglio ma ci sono anche situazioni e mi sembra questo il caso in cui il taglio non si può dare per via delle persone o delle situazioni che vi sono coinvolte per esempio io voglio tagliare con la mia ex moglie ma ci sono i figli oppure io voglio tagliare col mio datore di lavoro e quindi voglio un altro lavoro ok però magari in quell'azienda io sono uno di quelli che riusciva a far funzionare tal macchina quindi se io me ne vado dall'oggi al domani loro avranno e quindi loro vengono mi fa cioè qui è una situazione in cui dovete un attimino attendere che altri vi servono un po' la cosa sul piatto d'argento insomma non dipende completamente da voi questo taglio e infatti andrà ad originare innanzitutto una bella parte di rimorsi vostri ok e questo però andrà ad originare anche una sorta di diciamo di vi porteranno per bocca probabilmente andrà ad originare anche una sorta di situazione poco bella perché alla fine anche voi qui avrete il la definitiva rottura il cambiamento della situazione che lascerà scontenta la controparte sia essa ripeto lavorativa familiare e probabilmente la diatriba si sposterà su un altro livello quindi qua c'è un po questa come come situazione del momento andiamo a vedere come evolve evolve semplicemente che voi qua probabilmente una volta che vi asce anche a voi la remita qui come nella prima stesura una volta fatta questa scelta finalmente vi siate ripresi quel tale ambito della vostra vita sia esso qualsiasi tipo ripeterò fino alla nausea e a questo punto io credo di poter dire che chiunque abbia tentato di intracciarvi dovrà fare conti sia col vostro ritrovato ritrovata integrità sia morale e spirituale o che fisica anche scusate e sia anche con un discorso di taglionetto e cambiamento nel destino visto in questo caso nonostante si tratti della torre una delle carte più che fanno più paura e consultanti però in dato eccessivo perché poi qua sarà l'ultimo colpo di coda io credo qui ci sarà allora ora riassumo a beneficio dei poi io mi perdo mentre faccio qui c'è una situazione che vostro malgrado voi non potete tagliare questa situazione vi viene comunque offerto la palla al barzo per tagliarla però che cosa origina origina nuovi dissidi questi nuovi dissidi alla fine li andate a tagliare semplicemente lasciandoli spengere quindi direi che nella vostra nella vostra vita sta arrivando come energia e come momento una consapevolezza rinnovata intorno a situazioni precedenti che sicuramente vi hanno fatto soffrire ma che purtroppo non dipendono completamente da voi la loro risoluzione non dipende completamente da voi mentre nella prima era proprio dare un calcio al vecchio qua il calcio al vecchio non lo si può dare perché è come se avessimo è come se avessi una colonna con un piano sopra se io il calcio alla colonna il piano mi cade in testa qua è un po questa situazione qua però voi lo fa vi verrà data l'occasione quindi sta arrivando l'occasione per dare un calcio a tutto ciò che è vecchio a patto che sappiate non ricadere nella trappola precedente la carta finale alla torre quindi a un cambiamento totale cambiamento rapidissimo questa c'è un per voi un ciclo completamente nuovo addirittura qua perché parte la morte finisce la torre cioè qua c'è proprio un cambiamento a 360 gradi che cosa dovete evitare allora dovete evitare innanzitutto qui torna l'inganno l'inganno sotto su tre carte due torna l'inganno comunque dovete evitare di cadere nella trappola della 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 rissa facile ecco direi quindi dovete evitare di dare troppo troppa importanza a queste cose qua dovete evitare di cadere nel tranello di questa situazione o persona a questo punto sempre più persona perché sicuramente questa persona o questa situazione hanno talmente tante facce talmente tante implicazioni che probabilmente cercheranno di tornare e comprarvi in qualche maniera però avranno il pugnale nell'altra mano quindi attenzione a come andate a rapportarvi a queste persone dovete smettere di aver paura del cambiamento anche la ruota usciva mi sembra nell'altra nell'altro interattivo e anche lì era comunque un lasciar fluire qui meriterebbe di sapere se ne uscite vittoriosi perché questa persona qua vi farà tenterà di farvi molto male ecco laddove non potrà nella situazione in cui vi sta facendo ora probabilmente tenterà di rovinarvi la reputazione tenterà di rovinarvi le amicizie oppure di farvi lasciare dal partner insomma qualcuno con cui avete avuto una discussione che sarà che è difficile da ma alla fine trionfate voi perché esce il carro e dominate il serpente e diciamo che per la versione 2 sta arrivando un periodo di rinnovamento a 360 gradi però prima si rende necessario chiudere questa situazione qua vediamo che cosa dicono le lune delle streghe che ha scelto la versione 2 allora vi esce manco a dirlo l'unica e vi esce dritta perché il pentacolo è rovesciato lank è di traverso l'unica e vi esce dritta la triplice luna che è proprio le fasi il cambiamento morte vita rinascita cambiamento delle energie eccetera quindi qui siamo proprio a un discorso di rinnovamento totale a 360 gradi e non dovete permettere al passato di cercare di mortervi numero 3 verde vediamo la numero 3 che cosa che energie stanno arrivando e che situazioni stanno arrivando per chi ha scelto variante 3 che energie stanno arrivando e che situazioni stanno arrivando per chi ha scelto la variante 3 ora forse c'è tutti i contrari è incredibile diciamo che la variante un po più buona qua sta arrivando un cambiamento verso la stabilità un cambiamento a lungo a lungo desiderato un cambiamento a lungo sospirato un cambiamento totale rappresentato nella parte più più soft diciamo che poi realtà soft in quanto dalla ruota è rappresentato nella parte più strong oggi sono anglofono dalla dalla torre che si è cambiamento repentino si è cambiamento totale si però rappresenta sia il se rappresenta la casa rappresenta insomma rappresenta tante cose che possono che quando cambiano cambiano in maniera decisiva può cambiare il se una persona può cambiare se stesso e avere un nuovo approccio alla vita se cambi casa è anche palese a chiunque che sta in una buona struttura è una cosa che desiderato c'è l'imperatrice la state cullando dal tempo arriva la realizzazione di questa cosa qua però anche qui c'è da stare un attimino in guardia poi vi dirò perché siete orientati verso questa e sicuramente arriva potrebbe ma qui ve la puttolia non essere come voi l'avete pensata perché comunque alla fine la torre ha sempre un'accezione di mi viene negatività ma in realtà nessuna carta degli arcani è negativa quindi in realtà è ingiusto parlare di negatività ha sempre una accezione che non ci soddisfa completamente perché magari è il destino che sceglie di darti una certa cosa o di darti una certa relazione con una persona però non è come tu te l'eri immaginata quindi qua la vedo un attimino così è una sicuramente una cosa estate coltivando da tempo ripeto un desiderio molto 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 pressante lo state accullando lo state un po come lei fa col bambino e però come vedete anche qua torna il discorso dell'insidia dietro quindi che poi in realtà qua sembra proprio un discorso di gestazione ecco la gestazione è nata però c'è l'insidia dietro qui si torna un po quello che dicevo prima fra la figura qua giù la luna quassù e nel mezzo c'è il labirinto insomma sarete soddisfatti a metà a metà a tre quarti dai qui torna il discorso sì della stella quindi il desiderio e anche il nuovo inizio però chiude con la forza devo la giustizia quindi probabilmente qua giù alla fine questa è una variante molto lineare perché qui in realtà non sta arrivando niente che voi non abbiate immaginato e alla fine vi dà comunque giustizia di quello che avete vi fa ritrovare un equilibrio la giustizia anche una carta di equilibrio e le speranze ci sono tutte anche se ripeto non è al cento per cento come voi ve l'eravate immaginati qui c'è poco da dire si tratta comunque di un nuovo inizio si tratta comunque di un di una nuova situazione che voi avevate da tempo per esempio il farsi la corte per un po di tempo e finalmente si riesce ad avere l'appuntamento fatidico e poi scatenerà tutto oppure un discorso di lavoro per cui ci si propone a diverse aziende alla fine ne troviamo una e ci accetta o un disco insomma qualsiasi situazione su cui voi abbiate battuto battuto battute ribattuto alla fine va a concretizzarsi anche se c'è un po questa torre che mi sta dicendo non sarà al cento per cento come vuoi tu e c'è la giustizia qua giù però è necessario che sia così perché tu con questa nuova assetto di vita che andrà ad avere e che ti sei cullato e programmato finora ritroverai una sua dimensione quindi per voi sta arrivando questa situazione qua la potete poi rapportare voi alle varie alle varie situazioni allora anche qui avete innanzitutto l'attenzione per il fatto che comunque c'è la forza contraria quindi parla di tutto ciò che è contrario alla forza tenete duro non fate colpi di testa non cedete al ricatto perché probabilmente qualcuno di voi potrebbe trovarsi anche in una situazione di disaccordo perché qua c'è una carta di accordo e di freddezza che se letta al contrario diventa comunque tirannia e disaccordo quindi qua probabilmente c'è un disaccordo anche con inganno da parte di chi può essere con voi vincolato a questa situazione che va a cambiare quindi magari è proprio questo il discorso che dovete cercare di evitare il labirinto come dice la carta che dovete cercare di evitare perché comunque la papessa nella sua accezione negativa è una figura chiusa di mente è una figura che tende all'inganno che tende al segreto ma non il segreto iniziatico il segreto quello che magari potrebbe anche se non cambiarti la vita comunque darti una spinta in più per agire in un certo modo la papessa se lo tiene per sé perché la papessa vista al contrario non è proprio una bella persona ecco direi che piuttosto una despota solitamente rappresenta una donna può rappresentare anche un uomo però rappresenta una donna e soprattutto state attenti all'infantilismo con cui parlate di questo progetto con le persone alla semplicità la naturalità non parlate tanto non dite tanto dei vostri sogni non dite tanto dei vostri progetti se si tratta per dire di un lavoro ok va bene limitatevi al discorso lavorativo non dite tanto di voi stessi perché magari qui può esserci un tranellone in vista se si tratta di una relazione magari cercate di essere più di non buttarvi di pancia subito perché se no magari qua può esserci anche lì il classico passo farso insomma vi stanno invitando alla cautela verso coloro che possono essere con voi coinvolti in questa situazione ci potrebbe essere il giuda di turno se si tratta di più persone o comunque se si tratta di una persona che sta facendo tutto da solo perché magari che ne so ha un sogno e vuol portarlo in termine stia attento perché comunque sulla sua strada può trovarsi il giuda di turno a cui involontariamente anche dice tutto e comunque dice da delle chiavi per capire che cosa vuol fare e questo alla fine lo pugnala quindi attenzione la vostra il vostro equilibrio lo andate a trovare dovete camminare un altro po' il cambiamento è prossimo i vostri desideri che avete accullato stanno per realizzarsi però attenzione giuda facciamo le lune delle streghe anche per voi avete questo anche voi dritto si avete la triplice luna crescita del potere personale però anche qui quindi attenti alle relazioni quindi è un po' quello che dicevo il pentacolo il pentacolo mi esce quasi dritto quindi vi direi che comunque c'è anche un discorso di protezione verso ciò che state facendo e comunque anche di completezza perché il pentacolo sono sappiamo quattro parti che vanno a rappresentare quattro elementi e il quinto elemento quindi comunque la completezza degli elementi mi esce la anche di traverso le altre escono al contrario quindi direi che dove ho messo la bustina direi che eccola qua che dovete stare un attimino attenti ai trappoloni alle relazioni sociali però ciò che voi avete architettato pensato immaginato desiderato cullato e costruito arriverà alla fine in porto basta solo che sappiate dosare le informazioni che date al prossimo bene io vi ringrazio questa lettura venuta a brevissima distanza dall'altra perché ripeto quando chiamano chiamano non ce n'è e vanno vanno ascoltate e ci aggiorniamo al prossimo video accorgo l'occasione per ringraziare chiunque abbia messo like al mio video anche chi ha messo dislike perché comunque aiutano a crescere anche quelli e soprattutto quanti si sono iscritti al mio canale in questi giorni ci aggiorniamo prossimamente con altri video buon pomeriggio buona settimana a tutti e Grazie.